Guarda, dici bene, infatti partita corretta, anche molto combattuta da entrambe le squadre, sempre in equilibrio, ma era così si sapeva, però tutti e due naturalmente ci tenevamo a vincere e siamo stati contenti naturalmente con della Cararesi di aver portato a casa questi tre punti anche perché ormai ci tengono saldamente al secondo posto e questo era il nostro obiettivo naturalmente anche perché anche in questa giornata ci mancavano dei pezzi, quindi anche cambi eravamo molto, anzi poi non eravamo neanche potuti effettuare, eravamo limitati, però voglio dire si è vista una bella partita, questo è anche un bello spot per il calcio femminile perché, ripeto, combattuta, agonismo, però insomma sempre corretta da entrambe le parti. Certo, perché io che ho giocato 22 stagioni e frequento molto Coverciano, ho preso un sacco di qualifiche da allenatore, direttore sportivo, osservatore, il calcio quindi ce l'ho nel sangue, ma specialmente poi il calcio femminile che è ancora in Italia considerato di serie non B ma addirittura di serie D o Z e quindi noi tutti ex giocatori, allenatori o chi fa parte comunque di questo mondo deve riuscire insieme a promuoverlo e dare sempre un buon esempio sia in campo che fuori, questa è la prima cosa. E chi può comunicare sempre questo sport perché tutte le famiglie che hanno delle bimbe che vogliono avvicinarsi, siano contenti appunto di portare appunto le piccole a iniziare questo sport. Poi io dico sempre, prima di fare dello sport, prima cosa. Poi, calcio, noi siamo ben contenti per il movimento. Allora, che era insomma una squadra forte, lo sapevamo, lo sapevamo dall'andata, poi lo sapevamo anche perché oggi ci cocavamo il secondo posto. Sapevamo anche qual era più o meno il gioco che facevano con appoggio e profondità, le abbiamo controllate bene. Il problema è che a questo gioco bisogna metterla in quel rettangolo e se noi non ci si mette è normale, poi ci mancano. Loro sono stati cinici, hanno fatto, mi sembra, tre azioni e hanno fatto due gol. Noi siamo andati il primo tempo almeno cinque volte davanti al portiere, non si è fatto gol e poi alla fine l'abbiamo pagata. Diciamo, sotto l'aspetto del gioco sicuramente, forse, boh, come sono andate le cose, potrebbe essere giusto un pareggio, ma una sconfitta insomma brucia un po'. Ma non è che ora voglio portare il dito su una in particolare. Diciamo, la squadra, avevamo avuto il primo tempo specialmente, la possibilità veramente di andare a riposo con tutta la tranquillità per affrontare poi anche il secondo tempo in vantaggio. Sicuramente ci sarebbero aperte il campo in modo migliore e aspettarle magari, però così diventa tutto difficile perché se non finalizziamo, cioè non possiamo ogni domenica creare così e raccogliere poco. Ecco, qualche volta va bene e come oggi con una squadra molto forte non è andata bene. Mi dispiace, mi dispiace perché andavamo secondi oggi e poi ci giocavamo tutto le prossime partite. Mi dispiace, insomma. Oggi, credo, indipendentemente dagli episodi che si possano discutere, non sia colpa dell'arbre, sia solo colpa nostra. Io ho cercato di parlare specialmente dell'ultimo che l'ha presa con le mani in area, però alla fine, giustamente, come mi ha detto lui, il fischio c'era lui. Non so che altro aggiungere, gli ho detto soltanto a termine di regolamento come funziona, però ha ragione lui, il fischio c'era lui. C'è poco da dire, è sbagliato troppo, specialmente nel primo tempo, tra Menchetti, Bianchi, tutto, ma questo ha poca importanza, succede. Si sbaglia, ormai è una costante di questa stagione che pronti via si regala qualcosa in difesa e poi si sbaglia un monte di gol. Altre volte siamo riusciti a recuperare, questa volta in parte ce l'abbiamo fatta, ma poi dopo è meritata. È meritata dipende dal punto di vista. Sì, forse il pareggio era un risultato più eco, però quando sbagli così tanto, quando sbagli così tanto, puoi solo fare mia colpa. Sul fallo di mano la sensazione era netta che proprio avesse allargato le braccia, il rigore fosse assolutamente netto, su un tiro diretto a un porta. L'arbitro se l'è sentita di dalla, ho visto un'altra cosa, non lo so. Però ecco, sì, questa è l'unica cosa, perché anche nel primo tempo sulla manchetta ho avuto l'impressione che avesse preso il pallone e lo stesso sull'entrata a scivolone, almeno l'impressione dalla tribuna, che non fossero, però ecco il terzo sulla mano, questo era, però come diceva Boscov, il rigore è quando abito fischia, se non fischia c'è poco da fare. All'Ivolo in casa dell'ultima, ci mancherà la Pucci che è squalificata, era in diffida, ha preso l'ammunizione. Ma la Caradori sentiva voi? Ma la Caradori no, non mi sembra, dovrebbe andare in diffida con questa ammunizione, dovrebbe essere in diffida. E quindi vediamo, ce la giochiamo, non vuol di nulla l'ultima classifica, è una partita sempre da affrontare e da vincere. Il secondo posto ormai penso ci sia sfuggito con questa sconfitta di oggi, perché loro avranno due punti di vantaggio, solo sono a cinque, noi ci abbiamo ancora da riposare. Però giochiamoci il terzo posto col Chianciano che ci deve venire a giocare in casa all'ultima. Questo sì, lo possiamo raggiungere, questo è l'obiettivo che ci rimane.